Italia, questo il titolo della mostra virtuale per poterla così visitare anche i tempi del lockdown ospitata alla Casa dell'Energia di Arezzo. Ci si riferisce al nostro paese che, guarda caso, ha un nome femminile e come si può vedere dalle opere esposte, le due artiste hanno uno stile totalmente diverso, operano con mezzi totalmente diversi. Da una parte Siglia Salvadori, le cui opere si legano alla tradizione e sono opere fatte con una tecnica antica, la tecnica della pittura del 300 di Cennino Cennini. Anche i temi si rifanno alla tradizione, all'iconografia tradizionale e poi abbiamo delle opere di Sara Lovari che usa un linguaggio contemporaneo, e usa un nuovo dadaismo, quindi oggetti ricomposti per raccontarci delle storie. Un'esposizione dedicata all'arte al femminile, inaugurata nella giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Spero che questa mostra sia fruita come deve essere, visto la bellezza delle opere e anche la ricercatezza negli stili che è stata appunto dedicata nella cura della scelta delle immagini e che però ovviamente si tenga anche come punto di riferimento che l'arte in questo momento viene intesa come veicolo per valorizzare e per proteggere la figura femminile, metterla nudo nella sua bellezza e ovviamente apprezzarla per quel concetto che poi è espresso anche dal poeta Gozzano, cioè dice amore, donna uguale, mistero senza fine e bello. Gli spazi di Via Leone Leoni ospitano così le opere di due artiste aretine, Silvia Salvadori e Sara Lovari. In questo dipinto in particolare ho voluto rappresentare una donna che è sì felice, traspare in questa veste, felicità in questo arcobaleno di colori, però al contempo ha un volto molto malinconico e quindi triste. Quindi felicità e tristezza insieme in un'unica figura che rappresenta la Toscana e forse anche l'Italia. Io parto dalle parole e in questo caso sappiamo che tanta della violenza che conosciamo parte e inizia dalle parole, si inizia con le parole per poi culminare in cose molto più gravi. Un percorso di sei parole, sei frasi, che partono appunto da una violenza domestica per poi arrivare alla denuncia e alla forza. Quindi il percorso un po' che auspico tutte le donne riescano a fare, tutte le donne costrette in delle situazioni nelle quali non vorrebbero stare.